Qual è la migliore forma di cardio, quindi di attività sportiva, per perdere il massimo quantitativo di grasso? Devo correre? Devo saltare la corda? Devo farmi una camminata? Devo andare a nuotare? Cosa devo andare a fare per perdere il massimo quantitativo di grasso? Ecco, con l'avvicinarsi all'estate e al momento in cui molte persone vanno al mare, vogliono farsi vedere, in una situazione migliore rispetto a quella in cui magari sono, una delle domande più frequenti che ricevo, come per esempio questo ragazzo qua, è proprio per l'appunto quale sia la migliore forma di cardio per perdere grasso. E quindi ho detto, ci facciamo un bel video e andiamo a chiarire una volta per tutto, stando alle informazioni scientifiche, quindi attenzione, non per sentito dire, perché ecco, magari è la prima volta che vedi un mio video e non sai chi io sia, il mio nome è Eduardo Baldini, questo è il mio canale, sono qua da lontano 2016, ho fatto più di 3000 video, e qui abbiamo sempre parlato di fitness stando solo alle informazioni scientifiche, non per sentito diro, perché qualcosa piacesse a me. E per affrontare questa tematica dobbiamo chiarire alcuni punti. Punto numero uno, la perdita di grasso, a prescindere che si stia parlando di definizione, con definizione intendiamo quella che uno sportivo fa con l'obiettivo di mantenere massa muscolare e perdere grasso. Sia la perdita di grasso pura, quindi se una persona che non si allena vuole perdere grasso, si basa fondamentalmente sull'alimentazione. Quindi se tu non sai quanto stai mangiando, quindi quante calorie stai mangiando, e non sei sicuro o sicura che tu stia mangiando un quantitativo giusto di calorie, dove con giusto intendiamo essere in deficit calorico, e quindi mangiare meno calorie di quelle di cui il tuo mantenimento richiede, tra l'altro se non sai quale sia il tuo mantenimento, ho messo a disposizione un calcolatore gratuito che ti lascio la pagina di presentazione, giù in descrizione nei commenti, ti registri, lo ricevi per email, e ti calcola lui le calorie di mantenimento, ma ecco, quelle che trovi sono le calorie per mantenere il tuo peso, dopodiché dovrai mangiare meno di quelle calorie. Ecco, se tu non sai quante calorie stai assumendo, ecco, nessuna forma di cardio ti farà perdere grasso. Sì, poi magari stai facendo le cose a caso e per botta, passami il termine, lo so che ci sono tante signorine e signore, botta di culo, ti ritrovi a perdere grasso. Ok? Magari dura una o due settimane e poi non ne perdi più, perché stai facendo le cose a caso e perché l'alimentazione è la base e il cardio è successivo, perché, ti faccio un esempio, togliere 300 calorie dal proprio mantenimento, quindi se il tuo mantenimento è 2005, passare a 2002, con la sola alimentazione è molto molto semplice, togliendo qualche carboidrato tu praticamente sei già sotto di 300 calorie. Per bruciare 300 calorie con il cardio, molte persone dovranno fare il cardio per un'ora, quindi se tu pensi, dici, ok, non faccio cardio, tolgo 300 calorie della mia alimentazione, fatto, voglio bruciare 300 calorie, buona fortuna, insomma, non è proprio semplicissimo, però in questo video non ti preoccupare, adesso ne andiamo a parlare. E io lo so che vi piace questa inquadratura, ma qui negli Emirati, nel momento in cui sto registrando, sta arrivando il caldo, quindi ci spostiamo in casa e riprendo a fare il video lì, perché qui è impossibile. Ok, era veramente troppo caldo, adesso qui con l'aria condizionata si sta bene. Allora, quindi compreso che il fulcro è l'alimentazione, una volta che l'alimentazione è a posto, possiamo andare a parlare di cardio, perché sì, il cardio può aiutarci ad aumentare il dispendio calorico, ma attenzione, il cardio, come ci dice il nome, deriva da attività cardiovascolare. Quindi, benché molte persone lo utilizzino come mezzo per aumentare il deficit calorico, quindi la differenza tra le calorie di mantenimento e le nostre calorie attuali, è un'attività migliore per migliorare la propria capacità cardiovascolare, perché una buona capacità cardiovascolare ci permette, per esempio, di bruciare più grasso da parte del nostro corpo, solo per il fatto di avere un buon condizionamento e il nostro corpo a riposo brucerà più grasso. In più, ci permetterà di avere un miglior partizionamento, quindi indirizzamento dei nutrienti ai muscoli, ci permetterà di avere un miglior recupero, ma ecco, c'è da sapere che il momento migliore per fare l'attività cardiovascolare non è in un momento di perdita di grasso, ma è in un momento in cui siamo in surplus calorico, quantomeno in mantenimento, dove i carboidrati sono alti. Perché? Perché un eccesso di attività cardiovascolare, quindi un eccesso di cardio, con bassi carboidrati, può portare a infiammazioni, fatica, ritenzione idrica, e tutto questo poi potenzialmente, uno, farci sembrare peggio di quando siamo partiti, due, farci peggiorare le prestazioni in palestra. Perché? Perché se abbiamo già fatica, quando noi andiamo poi ad allenarci, anche se abbiamo fatto il cardio il giorno prima, noi riusciremo magari a reclutare, se abbiamo la fatica, meno unità motori del muscolo in allenamento, e quindi manterremo meno massa muscolare, e quindi ci vedremo ancora più vuoti, oltre che magari pieni d'acqua e pieni di infiammazioni. Quindi, puoi utilizzare il cardio per perdere grasso e aumentare il dispendio calorico? Sì, ma adesso ti devo andare a spiegare di cosa stiamo andando a parlare, e se non sei iscritto o non sei iscritta, è già complesso di che livello di informazioni vi stiamo parlando. Se ti iscrivi, così YouTube ti consiglia i miei video e smetti di seguire le informazioni a caso che trovi là fuori. Se poi, una volta finito di vedere il video, ti renderai conto di non sapere come andare a strutturare la tua alimentazione per perdere grasso, ho una guida che ti dà già tutto fatto, pronta per essere seguita, chiamata Ora Basta di Magrimento Scientifico Pratico, sia per onnivori vegani e vegetariani, sia per gli uomini che per le donne, dai ventenni ai settantenni, dove praticamente tutti i calcoli sono già stati fatti, quindi non li devi fare tu, non devi nemmeno usare i calcolatori. Trovi gli esempi di diete pronta all'utilizzo per ogni singola necessità, tutto personalizzabile, con un supporto a vita. Così, se ti vuoi personalizzare andando ad inserire qualche alimento particolare, scrivi all'email, ti viene fatta la sostituzione per te, tu non devi stare a pensare a nient'altro se non seguire di giorno in giorno quello che ti viene detto, perché ti viene detto proprio colazione, pranzo, cena e tutto quanto, ma anche senza il supporto email, tu avrai una tabella che ti aiuterà a personalizzare tutti gli alimenti. Quindi se vuoi smettere di fare le cose a caso dal punto di vista alimentare, ti lascio la pagina di presentazione giù in descrizione e nei commenti. Quindi, compreso questo, togliamoci subito quello che idealmente non vogliamo andare a fare. Punto numero uno, non vogliamo andare a fare il cosiddetto cardio HIT. Quindi a intervalli, dove veramente andiamo a dare la massima intensità, se sei soprattutto una persona che si allena. Ma questo, in realtà, anche se sei una persona che non si allena. Questo perché? Perché è quella che ci fa accumulare più fatica, potenzialmente anche più danno muscolare. E il danno muscolare è un nemico per mantenere i muscoli in una fase di perdita di grasso. Perché se hai il danno muscolare e poi ti vai ad allenare, attenzione, la fatica che noi andiamo ad accumulare maggiormente non è solo a livello muscolare del muscolo fatto durante il cardio. Quindi non è che se io faccio degli sprint di corsa, non è che la fatica allora è solo nelle gambe. No, la fatica a livello generale. E quindi, anche se poi tu il giorno dopo vai a allenare il petto, tu riuscirai a reclutare meno unità motori e quindi peggiorerai nelle prestazioni e questo ti porterà potenzialmente a perdere massa muscolare. Oltre a ciò, un'altra tipologia di cardio che non vogliamo andare a fare è dove c'è una fase eccentrica sovraccaricata per esempio dalla gravità. Cosa significa questo? Significa fare i salti per esempio in alto. Anche in questo caso qua per via della gravità la fase eccentrica è sovraccaricata tutto questo può portarti a più fatica e più danno muscolare. Quindi queste tipologie no e nemmeno per esempio attività molto lunghe. Cioè, se tu mi dici Edoardo mi faccio una mezza maratona è troppo se sei una persona che si allena perché questo va a peggiorare le prestazioni in palestra. Il discorso diverso è andare a fare per esempio un'ellittica è andare a fare per esempio una cyclette è per esempio andare a fare un vogatore se lo fai ad una intensità non alta bassa va bene perché non ci fa accumulare danno muscolare e troppa fatica soprattutto in confronto al resto perché il nostro obiettivo durante questa tipologia di cardio soprattutto in una fase di definizione non è avere i benefici da un punto di vista cardiovascolare. Per il discorso cardiovascolare ne potremmo parlare che probabilmente facendo gli intervalli in termini di cardio magari ottieni risultati ne potremmo parlare di fare del cardio ad alta intensità ma in questo caso qua non è il nostro interesse nel nostro interesse qui è bruciare più calorie possibile minimizzando l'accumulo di fatica e di danno muscolare perché se sei una persona che si allena il tuo obiettivo principale rimane comunque l'allenamento e mantenere i numeri in termini di ripetizione di carico che avevi prima di iniziare la fase di definizione e quindi con ciò detto qual è la miglior tipologia di cardio possibile? La miglior tipologia di cardio possibile è quella che ci vede incrementare il NEAT che è praticamente il dispendio calorico derivante da attività non sportiva cosa significa questo? Significa che il miglior cardio possibile è per esempio farsi una camminata tranquilla perché? Perché l'accumulo di fatica sarà minore possibile il danno muscolare sarà il minore possibile è facilmente fattibile in quanto non è nemmeno necessario che tu te li faccia la camminata tutta insieme ti puoi fare mezz'ora in una volta mezz'ora in un altro 15 minuti in un altro momento 10 minuti in un altro ed è anche facilmente tracciabile durante il resto del giorno per esempio ci sono gli smartwatch ci sono i telefoni che ti tengono traccia dei passi fatti tu parti mantenendo lo stesso quantitativo di passi che sia 5 che sia 7 che sia 10 li mantieni costanti se poi in un momento di definizione avrai bisogno di aumentare il dispendio calorico perché non vuoi andarlo a fare dall'alimentazione magari stai facendo 10.000 passi ne fai 13.000 e teni in considerazione che ogni 1.000 passi in media ti fa bruciare circa 25-40 kilocalorie quindi capisci che già con 10.000 passi tu hai creato un deficit giornaliero in più di 250 barra 400 kilocalorie che sono tante e l'accumulo di fatica è basso poi quelle 400 kilocalorie te le potete bruciare magari in 25 minuti facendo degli sprint sul tapirulan sì ma l'accumulo di fatica e di danno muscolare saranno maggiori se sei una persona che si allena questo potrebbe compromettere i tuoi risultati soprattutto se hai pochi carboidrati perché con pochi carboidrati il danno muscolare che già accumuli normalmente sarà potenzialmente maggiore attenzione e non importa se il metodo non è super accurato l'importante è essere costante in modo tale che anche se c'è un margine di errore si ripeta continuamente non ci sia un problema qualora poi dovesse andare ad incrementare per esempio il numero dei passi e oltre a ciò camminare durante il giorno aiuta anche nella digestione quindi male non fa e considerate che è molto semplice aumentare il numero dei passi ti faccio un esempio abiti al secondo piano ti fai le scale invece di prendere l'ascensore se nel complesso dove vivi hai l'ascensore oppure puoi andare a fare la spesa fai dei passi ti faccio un esempio io qui sotto esattamente nel mio complesso ho un supermercato ma ne ho uno abbastanza vicino a 10 minuti di camminata voglio incrementare i passi invece di andare questo vado di là che tra l'altro ha anche delle cose migliori potrei andarci in bici sì ma ci vado a piedi se voglio incrementare il numero dei passi poi se tu non vuoi andare ad incrementare il numero dei passi non è un problema quindi non vuoi dimagrire camminando come va molto di moda se tu vuoi fare del cardio lo puoi benissimo fare in palestra ma mi raccomando cerca il modo meno impattante possibile in un'ottica di fatica e di danno muscolare soprattutto se vuoi mantenere il massimo quantitativo di massa muscolare ti vuoi riempire il meno possibile di infiammazioni e ritenzione quindi ricapitolando struttura la tua alimentazione e assicurati di essere in deficit calorico punto numero due se vuoi incrementare il dispendio calorico non dalla sola alimentazione monitora il numero dei passi e mano a mano che ne hai bisogno vai ad incrementare quelli se poi il numero dei passi non ti piace con il cardio ma deve essere poco impattante detto ciò io ricordo che se vuoi un percorso pronto finito con tutto già fatto dove tu lo prendi oggi e inizi oggi stesso a perdere grasso c'è la guida ora basta che è aggiornata gratuitamente a vita ha un supporto a vita diretto con me e con chiaramente le persone che mi aiutano hai già tutto fatto non devi fare calcoli non devi utilizzare calcolatori tutti i calcoli sia per uomo che per donna vegano vegetariano onnivoro sono già stati tutti fatti per i ventenni quarantenni sessantenni ci sono le casistiche per tutti ci sono decine di pagine di esempi proprio di diete che ti dicono a pranzo mangia questo a cena mangia questo di giorno in giorno quindi tu saprai esattamente cosa andare a fare tutto personalizzabile senza bisogno di fare calcoli in più con il supporto email giornaliero vuoi inserire un alimento particolare scrivi a quell'email ti viene fatto il calcolo per te tu non devi stare a pensare a nient'altro se non seguire le indicazioni e vedrai che perderai grasso obiettivo un chilo a settimana e no non è troppo se fai le cose correttamente quindi non fai il cardio fatto male per esempio la pagina te la lascio giù in descrizione nei commenti o in alternativa se vuoi un percorso su allenamento integrazione e alimentazione c'è la baldina academy che all'insieme di tutti i miei percorsi contiene anche quello di cui abbiamo parlato adesso tutte le altre guide per l'aumento della massa muscolare sull'allenamento per la palestra per la casa veramente ogni singola necessità è risolto tutte le guide future che io rilascerò con la baldina academy tu le avrai gratuite paghi una volta e in quel caso è addirittura la mia chat diretta con me su telegram anche quella giù in descrizione nei commenti per qualsiasi domanda sui miei percorsi su come funzionassero se potessero fare per te scrivi a questi riferimenti qua a questo numero lo sapo che io a questo email qua ti risponderà Alessandro Maddalena tutte le domande del caso e noi come sempre ci vediamo tutti i giorni all'una sempre su questo canale ciao a tutti a tutti i giorni all'una